Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Apriamo questa edizione del telegiornale parlando del maltempo che ha colpito anche il Veneto. La pioggia non smette di scendere, allora sentiamo com'è la situazione ma sentiamo anche cosa ci dobbiamo aspettare. In alcune zone sono dovuti intervenire gli uomini della protezione civile ma non solo. Intanto fortunatamente a Venezia l'acqua alta sta lentamente iniziando a scendere. Maltempo sul Veneto e in molti comuni la situazione è peggiorata anche con allagamenti. Piove con violenza su tutta la regione e con particolare intensità su quello orientale. Mentre l'acqua alta sul medio mare che ha insistito per giorni a Venezia appare in leggero regresso. Numerose le zone finite sott'acqua, qualche smottamento in montagna, specie nel Comelico, con danni alla viabilità anche gravi. Nella notte tra mercoledì e giovedì gravi disagi nel veneziano, in particolare a Porto Gruaro. Per un tratto e per un breve periodo è rimasta interrotta anche la linea ferroviaria Venezia-Trieste. Secondo l'ARPAV nel breve tempo le condizioni climatiche non avranno miglioramenti. Se infatti una breve tregua potrebbe avvenire venerdì, da sabato sarà protagonista ancora il maltempo. L'ARPAV avverte che dai satelliti non è segnalato alcun netto miglioramento nel breve periodo. Il maltempo questa mattina ha colpito il Veneto orientale in maniera pesante, causando anche l'allagamento della Casa delle Farfalle di Porto Gruaro. Una struttura che cura i disturbi del comportamento alimentare. Una struttura gestita dall'Ursla 10 che alla fine è stata evacuata. Nove le ragazze ospiti che assieme a medici e infermieri hanno dovuto abbandonare la comunità alloggio dopo essersi riparate inizialmente al primo piano dello stabile di questo edificio. Anche un centro diurno di salute mentale nella stessa zona allagato è stato chiuso. E tanti gli interventi della protezione civile, numerosi i volontari al lavoro, il servizio. La protezione civile regionale sul campo con oltre 70 squadre composte da più di 300 uomini per fronteggiare una situazione che continua ad essere difficile, con precipitazioni molto abbondanti che stanno creando parecchie difficoltà affrontate con tutti i mezzi e il personale disponibili. Lo riferisce al presidente della regione Veneto con l'assessore alla protezione civile Stival sta seguendo l'evolversi del maltempo che dopo una brevissima pausa è tornato a colpire duramente pressoché tutto il territorio regionale. Nel pomeriggio i tecnici della protezione civile regionale hanno fatto il punto della situazione comunicando che il caso di maggiore difficoltà si registra nel Veneto orientale dove numerose squadre sono intervenute in varie situazioni anche in relazione alla richiesta d'aiuto inviata dal direttore generale dell'ULS 10 per l'evacuazione della comunità alloggio Casa delle Farfalle a Portogruaro. Le precipitazioni stanno determinando effetti anche sulla rete idraulica principale oltre che alla rete minore. Sono in piena nel Veneto orientale il Livenza e il Lemene che è tracimato nella zona di Portogruaro. In regime di guardia anche gli affluenti estesi allagamenti si sono verificati a Portogruaro, Fossalta e Concordia Sagittaria dove nelle parti più basse l'acqua ha raggiunto anche il metro sul piano Campagna. In quest'area le precipitazioni hanno fatto registrare punte di 115 mm in 45 minuti. Caos questa mattina lungo il passante di Mestre. Viabilità in tilt e lunghi incolonamenti. Un tir si è rovesciato all'altezza di Preganziol con direzione Padova. Sul posto sono giunti la polizia stradale e i vigili del fuoco. La viabilità ha subito delle ripercussioni pesanti fino a quando il mezzo pesante è stato rimosso dalla carreggiata. L'uomo che era al volante del camion non ha riportato conseguenze fisiche. Un tecnico di AIM Vicenza, la municipalizzata di Luce e Gas, è rimasto ferito gravemente a Bolzano Vicentino da una coltellata infertagli da un cittadino straniero. Secondo una prima ricostruzione il tecnico era assieme ad un collega, era arrivato in una palazzina per riattivare alcuni contatori che erano stati staccati. Dopo aver suonato alla porta dell'uomo i due addetti sono stati aggrediti. Uno è stato colpito con un pugno in volto, l'altro è stato ferito all'addome e a un braccio con un coltello. Nell'alte a Padovana un tir che stava uscendo da un'azienda ha investito uno scooter e il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito gravemente. È stato ricoverato in prognosi riservato un uomo che nella mattina di mercoledì è stato coinvolto in un incidente stradale. Ferito in maniera grave un 52enne rumeno ma residente a Santa Giustina in Colle. L'uomo era alla guida di uno scooter, stava procedendo lungo via Roma quando è stato travolto da un tir. L'investimento è avvenuto intorno alle 10 tra Arsego e Santa Giustina in Colle. Lo schianto è avvenuto in maniera frontale. Il camion era appena uscito da un'azienda della zona. Il ferito è stato trasportato dal suo e mal ospedale di Campo San Piero e ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono giunti gli agenti della Federazione del Campo San Pierese. Tragedia nella notte in provincia di Treviso. Kevin Stefik, 21 anni, di Castelfranco Veneto, è morto nella notte. Il ragazzo è stato colpito da una crisi asmatica, sembra giunta mentre era a letto. Sul posto è intervenuta l'ambulanza ma il 21enne non ce l'ha fatta. Sembra che all'ospedale vi siano stati anche dei momenti di tensione che sono stati calmati dai carabinieri intervenuti sul posto. Per i familiari della vittima i soccorsi pare non siano stati tempestivi. La notizia della morte di Kevin ha creato dolore e incredulità. Un detenuto a marzo continuava ad avere dolori allucinanti all'addome. Dopo varie visite e somministrazione di farmaci è stato portato all'ospedale di Padova. Il detenuto però aveva già fatto una peritonite. Nonostante l'operazione è morto, ora è stata aperta un'inchiesta. La procura di Padova ha aperto un'inchiesta scrivendo 5 medici sul registro degli indagati per far luce sulla morte di un detenuto di 45 anni, Francesco Amoruso, che avvenne durante un'operazione cui fu sottoposto ormai troppo tardi per una peritonite non diagnosticata. Il detenuto è morto l'8 marzo scorso all'ospedale di Padova. Si trovava al Due Palazzi dal 2006 dopo essere giunto da Re Bibbia e doveva rimanere in carcere fino al 2013. Il 6 marzo ha iniziato ad accusare dei dolori addominali fortissimi. In un giorno e mezzo era stato visitato ben cinque volte. Un lasso di tempo nel quale gli sono state somministrate varie dosi di antidolorifici e farmaci vari. Poi venne sottoposto ad intervento ma era già in peritonite e non è riuscito a superare l'operazione. L'inchiesta dovrà valutare ogni circostanza. Alle indagini sarebbe fondamentale la testimonianza di un'infermiera che allora lavorava dentro al penitenziario ma che pare non sia stata sentita e non sia più nella struttura carceraria. Incidente mortale. Ieri pomeriggio a Piombino d'Ese in provincia di Padova. Un uomo di 70 anni, Giuseppe Perotto, si è schiantato contro un grosso albero. Un botto violentissimo. L'auto si è accartocciata. Una BMW 520. Sul posto sono giunti i soccorsi ma per il conducente ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Sconosciuto il motivo che ha fatto perdere all'uomo il controllo della macchina. La vittima abitava a Estrana, in provincia di Treviso, dove era conosciuto anche nel mondo della politica locale. Era stato uno dei coordinatori della PDL. Tutti gli esodati sono stati salvaguardati. Sono finiti, restano soli casi specifici. Ad affermarlo è l'Inps, dopo l'incontro in Commissione Lavoro al Senato, a cui hanno partecipato i commissari Tiziano Treu e il DG Mauro Nori. Tutti tutelati, soggetti rimasti senza sostegno a ridosso della riforma Fornero. Quindi fino al 6 gennaio 2015. Parliamo di criminalità, controlli da parte della polizia a Venezia, in terraferma in particolare. Sono stati passati al setaccio diversi stabili dismessi a Marghera, ma sentiamo tutti i dettagli. Un servizio di controllo a Marghera è stato svolto mercoledì mattina dal commissariato di polizia negli stabili in abbandono presso la zona industriale, dove sono stati sorpresi stranieri che avevano fissato la loro dimora, tutti non regolari sul territorio nazionale e provenienti dall'est Europa e dal Nord Africa. Uno di questi, Kamel Tuiti, un tunesino di 34 anni, ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato dagli agenti dopo aver cercato di nascondersi in una cavità dell'edificio abbandonato. Lo straniero era colpito da un ordine di carcerazione per un anno e due mesi e dieci giorni, emesso dal tribunale di Padova. Il tunesino era già stato denunciato diverse volte per reati inerenti, gli stupefacenti e il patrimonio. Portato in commissariato, l'uomo, prima di finire in carcere, ha minacciato uno dei poliziotti, fatto per il quale verrà ulteriormente deferito all'autorità giudiziaria. I vigili del fuoco sono intervenuti ad Arzignano per salvare un cane, un beagle, che era rimasto incastrato con la testa in una ringhiera. A chiedere l'aiuto al 115 è stata la padrona dell'animale dopo aver tentato in vano di riuscire a liberarlo. Blanca, questo è il nome del cane, ha manifestato tutta la sua gratitudine ai vigili del fuoco, cercando di giocare con loro dopo che era stata liberata. L'Agenzia delle Entrate potrà decidere di non applicare sanzioni ai sostituti d'imposta delle zone colpite dall'alluvione 10-14 ottobre, che hanno versato in ritardo le ritenute. Lo annuncia il MEF ricordando che il decreto del 20 ottobre prevedeva la sospensione dei termini per Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli, Venezia e Giulia. Ancora una volta le televisioni locali si trovano ad avere delle grosse problematiche. Lo Stato rivuole indietro circa 80 frequenze televisive che aveva assegnato in tutta Italia con regolare autorizzazione ministeriale dopo aver costretto queste aziende a sacrifici economici enormi. In Veneto ne toglieranno 8 di queste frequenze. Secondo una delibera a Gcom la dismissione dovrebbe avvenire già entro il 31 dicembre di quest'anno. Una follia che è stata motivata da interferenze con gli stati esteri. Alla Camera dei Deputati oggi alle 15 si è svolta un'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Davide Caparini del gruppo Lega Nord per le Autonomie e da altri 18 deputati della Lega Nord tra i quali anche l'Onorevole Roberto Caon. Vi facciamo vedere l'intervento seguito anche dall'immediata risposta. Con i tagli e la cattiva gestione delle risorse frequenziali centinaia di imprese radio e tv saranno costrette a chiudere. Il comparto che conta qualcosa come 25 mila dipendenti e che dà informazione a qualcosa come 20 milioni di persone è messo a grave rischio proprio a causa dell'indeterminatezza, dell'incostanza delle decisioni del Ministero delle Attività Produttive. Qui vengono messi in gioco il futuro, il posto di lavoro di migliaia di lavoratori. Quindi vorrei capire dal Governo qual è la posizione e cosa intende fare. La ringrazio. La Ministra per le Riforme Costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha facoltà di rispondere. A tre minuti. Grazie Presidente. Il quesito anticipato dal collega in precedenza riguardava prevalentemente il tema delle frequenze, dell'assegnazione delle frequenze sui territori confinanti e quindi ovviamente anche l'impatto economico sugli operatori del settore. La risposta che fornisco ovviamente si basa su elementi che il Ministero dello Sviluppo Economico in quanto competente ha trasmesso. Noi sappiamo che la legge prevede che la Gcom escluda dalla pianificazione delle frequenze del settore televisivo digitale terrestre quelle che siano già state assegnate da altri Paesi, nonostante siano utilizzati dagli operatori italiani proprio al fine di evitare rischi di infrazione nei confronti del nostro Paese. Ora sappiamo purtroppo che questo è un problema che si verifica in alcune zone di confine perché quasi tutte le frequenze in Italia sono state assegnate. Perché ci possa essere un rilievo formale occorre una comunicazione ufficiale degli altri Stati al Ministero dello Sviluppo Economico. In questo momento Francia, Slovenia, Croazia e Malta hanno segnalato questo problema di sovrapposizione al nostro Paese. Proprio per porvi rimedio ovviamente è stato previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico la liberazione di queste frequenze in modo ordinato e con dei criteri che dovranno essere concordati anche con gli operatori del settore. Proprio per questo dal 6 novembre sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è aperta una consultazione pubblica per individuare in modo concorde anche le modalità per liberare volontariamente queste frequenze a fronte di un indennizzo economico, una compensazione economica per gli operatori. È già stato predisposto un fondo dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è previsto un ulteriore intervento normativo proprio per aumentare il fondo a disposizione per la compensazione di questi operatori che dovranno liberare le frequenze e quindi evitare i rischi di infrazione a livello europeo. È previsto un aumento delle risorse di compensazione per chi libererà volontariamente le frequenze ha detto il Ministro Boschi. Io ringrazio per la disponibilità e anche per la competenza in altro modo ringrazio anche la giustificata assenza del Ministro per le attività produttive però qui mi fermo con i ringraziamenti in quanto voi dopo aver rinnovato le concessioni non più tardi di due anni fa oggi chiedete di fatto a chi è possessore di una frequenza di ridarla dopo averla utilizzato e fatto impresa su quella frequenza per 20-30 anni. Ora il punto è che, giusto per capirci, le frequenze per chi fa televisione sono come l'acqua e la farina per il panettiere, sono fondamentali, sono l'essenza stessa del lavoro. Parlare di indignizzo significa dire vi chiudiamo l'impresa e allora che ne sarà delle migliaia di lavoratori, che ne sarà del pluralismo dell'informazione, che ne sarà di tutte quelle cose che io sento spesso ripetere anche da questo governo, ma che viene puntualmente disattesa dal momento in cui queste decisioni scavalcano qualsiasi logica imprenditoriale di sviluppo, di occupazione e di crescita di un settore che è unico, unico nel panorama europeo e che questo governo dovrebbe tutelare e che invece purtroppo oggi non tutela. E naturalmente vi terremo informati sugli sviluppi che ci saranno a riguardo. Le previsioni del tempo, le condizioni rimarranno invariate, quindi avremo anche domani una giornata di spiccato maltempo in tutto il territorio del nord-est. È tutto per questa edizione, grazie per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie per la visione!